Buongiorno, buonasera, buonanotte, come vai? Come stai, signore e signore? Siamo qui in attesa di intrattenere, ma perché? Ma perché siamo così? Siamo pazzo, matto lunatico, devo dire che io sono il brutto... del mio paese, l'universo intero. Grazie a tutti voi, nel giorno di oggi, che è venerdì santo, provo a presentare una nuova serie di video cercando di imparare a parlare l'italiano. Adesso, leggendo Pinocchio di Carlo Colodi, ho fatto un disegno velocissimo. So che Paolo Male pronuncio peggio, ma con il tuo aiuto cercherò di fare meglio. Così io aspetto di contare con la sua presenza. Questo discorso è stato fatto con l'aiuto del traduttore di Google, ma cosa possono dire? Grazie, grazie a tutti. Verdaderamente, aspetto di contare con il tuo aiuto. Signore e signori, bambino e bambina, e tutto il popolo italiano. Grazie molto, ci vediamo pronto, subito. Arrivederci a Roma, ci vediamo pronto. Ecco, in bocca al lupo. Un pezzo di legno si muove e fa i capricci. Mie piccole lettori, questa storia inizia con un pezzo di legno. Non è un legno, non un legno costoso, ma uno di quali semplici che si usano per il fuoco di casa. Non si come o perché, ma un giorno questo pezzo di legno arriva nella bottega, bottega? Del falegname che tutti chiamano Maestro Ciliega, per il suo naso, per il suo naso sempre rosso. È perfetto per fare una gamba dal tavolino, dice, dice subito Maestro Ciliega, Ciliega, mentre prende da terra una grande ascia per Tagliardo. Fa piano, per favore. Dove, da dove, da dove, da dove viene questa vocina? Maestro Ciliega guarda in ogni luogo, anche nell'armadio che tiene sempre chiuso. Ma non c'è nulla. Forse ho sognato. È meglio continuare a lavorare, dice il vecchio falegname che prende nuovamente l'ascia e colpisce il legno. Ai, mi hai fatto male.